E' bella a tutti ragazzi dal vostro Jab 881, benvenuti qui nel primo video ufficiale del gioco completo di FIFA, scegliamo il nostro personaggio per l'ultimate team, sono indeciso fra questo e questo, chi prendo, prendo questo qua, si, ok, nome, allora, Andrea, Jab 481, fine, alias quello ovviamente, nazionale Italia, fisico, vabbè lasciamo questo, almeno sono forti di questo, non ci fa vedere, devo guardare allo specchio per vedere come sono, raga, no, questo, outfit, voglio vestirmi più destra, no, yes, così, no, maglia, giacca, pantaloni, gialli, gialli li volevo, cazzo, bello, così, stile lecce, coi colori lecce, oh, si, si, e allora, fai, andrà già, casino sti comandi, oh, facciamoli così 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 va sono più fighe così va sono più fighe no no senza copri il capo dai io non ho sbagliato vabbè qua zettoni forti quasi gialle sempre per il lecce nostro tatuaggi buono animazioni questo va come? la voce inserita continua una parola oscena il mio nome mi va mettere allora J P 8 8 questo lo accetti non ci prende il nome riproviamoci si così si vabbè dai ci accontentiamo vabbè no allora ragazzi la storia io la volevo iniziare in live quindi come primo video provo a fare il tour poi cambiano il tour va tour volt vai avanti ti voto al neo eliminazione a Roma perché ovviamente stiamo in Italia una partita singola giusto per provarlo no qui no campione no qui esperto qua vai 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 vabbè noi ci chiamiamo Reddy io controllo tutta la squadra però eccolo qui questa è la mia prima partita quindi quindi la reaction sarà autentica come vedete ho creato il personaggio insieme a voi pure bella vai sì buon ma i ragazzi che ci divertiremo un sacco questa volta voi Pallone è recuperato, Ben, take off Punito, questo intervento Yes What are you doing? Sit in! Here we go, come on! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, simmy, simmy Recupera la balla con un ball take off I'm open Oh, peccato, raga C'è una fatta gol Eh, vabbè Dai, dai Uno e uno, grande, abbiamo fatto un assist Grande, grande, grande Oh, peccato Vai Oh, peccato Oh, peccato Biapi, biapi, biapi No, palo Palo, abbiamo preso, peccato Cinque, quattro, tre Nooo Eh, vabbè Uno, uno, due, una, un po', bella raga Dai, che ci stiamo divertendo, eh E' bello stavolta, eh Vabbè la novità, comunque. Pazzesco, peccato. Raga, se mi sentite, conversare poco in questi video, perché mi concentro un sacco e non voglio disturbarvi, abbiamo preso il gol. Vabbè. È molto difficile comunque, mamma mia. È un messo esperto. Se metto campione, come nel FIFA normale, lo sapevo già, che avrei trovato una modalità difficile da giocare, ma non è così, però. Meglio, dai. Voglio dire che... No. Cioè, non passa la palla. Nooo, che rogno, però. Però, ricordiamoci, ragazzi, che noi abbiamo preso anche un palo nel primo tempo, eh. Annaggia, vai! Già, po'. Vai! No, ma è difficile proprio, raga. No, vabbè, due pali, dai. Va bene, vabbè. Non ci voleva far vincere il gioco, va. Gollo. Dovevamo stare almeno 4 a 2. Bella, vai. Bella. Combattuta come partita, vai. Vai. Nooo. Mamma mia. Uno contro uno. Goal! Vai, che forse la decide proprio il nostro personaggio. Già per 881. Calcio d'angolo. No. Che cazzo? Ma che ha fatto? Vabbè. Via. Nooo, se ne facevo sto gol. Se ne facevo sto gol. Che numero di alta classe. Devo stare attento che c'ho solo un gol di vantaggio, eh. Cazzo. Cazzarola. Cazzarola. Questo è gol. Via. Grande. Grande. Prima partita, prima vittoria. Bella, raga. Grande. Grandissimo. 9,2. Abbiamo deciso la partita, ragazzi. Abbiamo preso un palo e un gol. Come no? Ah, vabbè. Glielo conta come autogol. Ho fatto due assist, però. Bella, dai. Grande. Ci saliamo di abilità. Bella. Possiamo sbloccare le cose, vedete, raga. Grande. Crediti volta. E niente, ragazzi. Il primo video sul FIFA volta lo abbiamo fatto. Bella a tutti. Questo è un video di presentazione. E la storia ve la porterò in live, come vi ho promesso. Bella a tutti dal vostro Jap 881. E varia il comand, raga. Bella. Ciao. Grazie a tutti.